Max Verstappen trionfa nel Gran Premio di casa della sua scuderia, accogliendo il successo in Austria. L'olandese parte malissimo dalla terza piazza, perdendo posizioni, ma il pilota della Red Bull recupera giro dopo giro con il ferrarista Charles Leclerc, che resta in testa alla corsa. A tre tornate dal termine, Verstappen, mentre sorpassa il Monegasco, lo tocca la curva 3. Taglia il traguardo davanti a tutti, ma gli steward lo mettono sotto investigazione. Tre ore dopo il suo successo viene confermato così come il secondo posto di Leclerc. Chiude terzo il pilota della Mercedes, Valtteri Bottas. Il 21enne nato a Monte Carlo dovrà aspettare ancora prima di poter mettere in bacheca il primo trionfo in Formula 1.